La responsabilità e la colpa sono di Renzi, del padre e della madre della riforma, degli aquilanti di un governo di Gnavi e di tutti coloro che oggi voteranno la riforma turandosi il naso, non già perché la condividono, ma perché con l'ultimo emendamento del governo approvato, prima del 2018, non si può tornare a votare. Questa è la realtà. Referendum nell'autunno 2016, poi ci siamo dati sei mesi per fare la legge elettorale del Senato, tre mesi per l'adeguamento delle leggi elettorali regionali e quindi si chiude la finestra elettorale del 2017. Con buona pace dell'indenità dei senatori e dei vitalizi che nel settembre 2017, cioè dopo quattro anni, sei mesi e un giorno, avrà maturato e tutti vissero felici e contenti.